Pronte per la partenza, si abbassa la bandierina e partono anche gli atleti della categoria G3. Questa è la prima batteria perché grazie al numero degli atleti gli organizzatori hanno dovuto sdoppiare questa categoria. E sono sei i giri che dovranno compiere gli atleti della G3. Abbiamo visto da subito un gruppetto avvantaggiarsi e tra loro si nasconde il migliore. La situazione non cambia in questa prima batteria. Ricordiamo che sono presenti anche le ragazze che si contenderanno la classifica femminile sempre per quanto riguarda la categoria G3. E siamo giunti al suono della campana. Sono otto gli atleti della G3 che si contenderanno la vittoria in questo primo circuito degli assi. E nello sprint finale alla meglio Daniele Bregoli che precede Francesco Baruzzi e Alessio Fezzardi. Leggiamo la classifica completa. Al quinto posto c'è Giada Fornasiero del Pedale Scaligero, quarta Asia Zanardini della Springedi, terzo Alessio Fezzardi della Monteclarense, secondo Francesco Baruffi della Nuvolento e vincitore Daniele Bregoli della Monteclarense. Al femminile terza Rebecca Luciani della Soprazzocco, seconda Giada Fornasiero del Pedale Scaligero e vincitrice Asia Zanardini della Springedi.